Ridurre il gap culturale sul digitale delle aziende e creare posti di lavoro per i giovani sono questi gli obiettivi di due progetti innovativi per la digitalizzazione delle imprese i cui primi risultati sono stati presentati ieri a BTO. Da un lato crescere in digitale è nato un anno fa da un accordo tra Ministero del Lavoro, Union Camera e Google Italia che mette a disposizione delle aziende una serie di tirocinanti formati da Google per supportarle nel loro percorso di digitalizzazione. Crescere in digitale è un programma molto operativo per mettere i ragazzi a lavorare. Noi se abbiamo un problema in Italia è noto e quindi Camera di Commercio ha pensato di, insieme a Union Camera, di finanziare il mantenimento dei ragazzi per 500 ore al mese all'interno di aziende formati da Google. Quindi noi abbiamo in questo momento la possibilità di formare un ragazzo, pagargli il mese, farlo lavorare in un'azienda. Quindi di fatto diamo lavoro a un ragazzo e diamo contributo a un'azienda per digitalizzarsi. Quindi facciamo due cose in una. È giunto invece alla terza edizione Eccellenza in digitale, il progetto nato dalla collaborazione tra Google Italia e Union Camera che offre consulenza alle imprese che vogliono costruire una strategia web dalla presenza sui social all'e-commerce. Allora, Eccellenza in digitale a Firenze esiste dal 2014 e più o meno abbiamo coinvolto circa 800 imprese per un centinaio di workshop formativi, qualcosa in più. Semplicemente le aziende si iscrivono mandandoci un'email o attraverso il nostro sito. Noi andiamo a trovarli in azienda e poi loro semplicemente possono venire a frequentare i nostri corsi. Dopo averli visitati in azienda proponiamo un piano di lavoro, quindi una consulenza strategica su quella che è la loro presenza web. A volte abbiamo aziende offline, quindi c'è veramente da pensare tutto dalla Z. Altre volte invece si tratta di azioni strategiche più piccole, quindi SEO, presenza social ottimizzata e cose di questo tipo. Grazie. 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 Grazie.